Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avvamposti abbandonati, alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Chi si nascondeva qui non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery. Crocevo le dita. Bentornato e benvenuto a un altro episodio di Unjardt4. Qui è il tuo solito Hendrix e spero apprezzerai il fatto che ho lasciato senza rotto i coglioni i tizi che parlavano. Vedo delle rovine là giù. Aspetta, vado a controllare. Ah, posso andare a piedi? Oddio, ci sono 65 milioni di tesori. Allora, Victor, viaggi ancora molto ultimamente. Ci provo. Preferisco trovare lavori lontano dal computer. Ah, ne parlavo con Nathan. Il nostro settore si sta spostando sempre più sui. Certo. No, voglio sentire quel dialogo. Sì, certo. Ah, giù per trovare il veicolo, ok. Niente di interessante. Ok, no. Vi stavo dicendo. Mi dispiace per l'episodio 12, sono sbaglio che ha avuto problemi. Ah, niente di che. Forza, di marcia. Che ha avuto problemi. Spero che non abbia problemi in anche questo. A caso, tra l'altro, non so neanche cosa che può succedere. Oddio, sicuramente ci sono tesori qua. Ci piegherò 6 anni adesso. Ahia. A trovare tutto. Pazienza. Proseguiamo veloci. Minchia, tutto ci sono innaffiato. Non è una fortuna. Quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti una? Zero. È inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un vulcano. Oltre a dove noleggiare la GPU economica. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non pu... No, parlami Sally, non ho rotto qualcosa per niente. Sono tornato. Vediamo a che punto ero. Non puoi essere sempre tu il sapientone. Che cazzo? Ehm... No, spero di non essermi perso un dialogo. Ehm... Pazienza. Cattivissima questa macchina. Roadhog. Ha molto... Uh, frenavano qua. R4. Eh sì, R4. No, va bene, non importa. Meglio tristare. Oh. Tokyo Drift. Anzi, Madagascar Drift. Dai, è un classico. Dietro una cosa c'è il tesoro. Ah, non credevo. Forse è così quale. Non posso dire. Io lo aspetto qui col senso. Eh, dai. Ma veramente? Non posso salire qui? Che stronzata. No, una cazzata. Vero? Posso salire da questa parte? No, una cazzata. Eh, yeah. Vabbè, è ovvio che c'era la... La portata dietro la cascata. Era un... Un must. Non è che questa volta ce l'ha stata giusta. No, non ci credo. Vediamo. Tirati. Ah, R2. Chissà cos'è questo posto. Ma non c'è bisogno di tirarla più a mano così, vero? No. Muoviti. La mettiamo poi. Queste scatole sono il mio antico nemico. Muoviti. Saliamo. Eh, saliamo. Oh, tesoro qua? Grande. Sono un figo, basta. Un'annotazione. Ho anche un'annotazione? Ditemi se volete se ve la... Non dico che ve la leggo io, ma ve la lascio un attimo in sua impressione. Guardate quell'io rompere tutte quelle lì. Che se ne incontrò la tre, no? Chissà chi li è costato. È un segna via. Teniamo gli occhi aperti. Ops. Ah, da qua sta da qua. Si sale oggi. Vai, macchinina. Dai, dai, piccola. Forza, andiamo, andiamo, andiamo. Ma che volta anche piccola. Mi sto sempre rimanendo perplesso sulle cose che spariamo via andate insieme. Tra cui molti cazzo. Opla. Ti prego, ragazzo, solo non farci calire. Ehi, senti, solo non conto. Resta al centro. Eh, si fa presto a parlare quando guidano... Ah! Tranquillo. Ma tutto bene. San po' c'è. Se cado adesso serve un po' una ruotura di palla, vero? Sempre più in alto. Che figo il fango. Mi chiedo se lo faccio in discesa a piedi, ci provo malissimo, vero? Siamo troppo piano. Sì, vabbè, dimmi da dove dobbiamo fare cose turche. Davanti così. Ma vaffanculo! Non faceva proprio andare là sopra! Ma che cazzo! La mia povera schiena! Ah, devo seguire le rocce. Che imbarazzo! Ah, c'è di teomatico. Uno ha passato da qui. Eh, esatto. Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Sì, finalmente. Grazie per questa visuale. L'interno mi piace e poi scendo qui, se non vi dispiace. Ehi, Vittor, di che parlate con il tizio dell'autonoreggio? Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con Berricello. Hai tirato fuori i soldi per il Berricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. Importante, siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Scusate! Porca puttana! Ecco qua. Oh. Facci piano, ragazzo. Sì. Oh, calmai. Quindi, Nathan, pensi che Adderi, più, e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui a Tampale Sparta? E chi lo sa? Forse è per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso? Già. Magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ma chiaramente è un demoletto in nascondimento. non è che da quelle oscura torre siamo fermati a giù tentativo forse posso cacciare quell'albero il verricello secondo voi non vogliamo la torre grazie del seno sapere si tritura centinaia di anni queste rovine devono essere dell'epoca di avrei interessante no stiamo salendo prima di ma porca guarda un drago capitano della fiery dragon faceva base in madagascar ai tempi di averi quindi averi avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedete non ha senso infatti non vedete forse ogni capitano era responsabile di una torre e forniva uomini per presidiarla eh questo ha già più senso questa non è l'ultima tappa del nostro viaggio ma anche poi sbaglio chissà quanto dura lanciarti l'ora che ci pensa berricello sei tu? un taglio nella corteccia qualcuno ha già saluto da qua? salito eh chissà cosa allora berricellaci tutto allora fammi pensare se adesso io scendo qua e prendo la macchina il fuoristrada un bel ricetto ma da non lo sapete che vuoi farci? non lo so eh questo era un po' amico com'è ah che figo ha cambiato mano no dì me lo devo farlo io no ne faccio una voglio fare un altro giro ora dovrebbe funzionare che figo che figo te la stai spassando eh? è un ripido di quanto sembri tutti pronti? dai prova sai ma dove minchia sei finito? guardate piano piano vabbè non mi cado adesso ah ah visto Sally? berricello valeva la pena è solo una collina non ha ancora giustificato la spesa eh per ora no ma ha vinto una battaglia festeggerò alla fine della guerra eh Sally dai è una buona idea berricello non direi stronzate fatevi gli occhi signori wow spettacolare cioè quello di primo cos'era allora? cioè era merda giunti fino a qui per sfuggire all'oppressione del governo ha ha oh poveri perseguitati loro volevano solo ammazzare e saccheggiare in pace poverina lo vanno a vedere come uomini liberi questa è stata giusta eh se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società questa mi sembra un'ottima scelta no io voglio sfogliare tutto che palle quanto diavolo è lontano questo vulcano state fermi perché non mi porti un regalo? un attimo che lo prendo eccolo che strano effetto ah ci sono delle rovine qui nell'affoga non le avevo viste non c'è niente eh almeno hanno senso nella storia diciamo ahia cazzo non ho ero distrattissimo guardia via eh addio ho un'altra carne cumulo di pietre scusa Sam cumulo di pietre grazie che coglione che sei allora c'è una strada qua controlla quella grotta si infatti torno subito io aspetto qui col Sam dinamite tesoro micchia ma non ho consigliato a loro di entrare qui c'è un tesoro di questi che figo sono un genio sono un genio sono un genio del male oddio sta diventando come l'episodio 12 non vorrei che si spaccase tutto ok e adesso iiii da un'occhiata qui porca troia mi vedo aspetta eh rave con la tizia che cazzo ci fanno in moda ah allora sono anche loro dove soldati cercano qualcosa sono la dinadin già figli di putt sembra abbiano trovato un avamposto coloniale quello sbagliato vero? questa è la buona notizia quindi ce n'è una cattiva quella è l'unica strada che porta al vulcano merda ma siamo in vantaggio che vuoi fare Nathan? fidatevi di me oddio e siamo un po' nella merda spottiamo tutto io vorrei fare la stelte allora proviamo a pensare da dietro allora io vado sempre dall'alto e poi vado dal basso sto imparando con voi a fare cose stelte diciamo anche se della stovazza è stata molto utile in questo credo si 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 ammazzo ammazzo quel pezzo di merda lì quello lì a destra e poi ammazzo quei due poi vado sul consumatore distruggo quello prendo il cecchino e scoppio tutto pezzo di merda ma quanti sono? sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, forse 10 stronzi non è bello ah non è così difficile ho capito a pensarci muto muto non vedete il cadavere per favore niente tutto a posto uff si credo che se la faccio stelte risolvò cioè ci spiego due secondi sicuramente muori ciao silenzio non facciamo le cagate della stovazza per favore ole c'è qualcuno qua dentro? peggio trepponi muto muto sei zitto sei zitto e andiamo qua ho visto pistola raffica tieni premuto ole ok dovremmo essere qua quasi tranquilli giusto? ci sono stronzi qui che non ho visto sono spottata allora no non mi serve a nulla quello ah posso andare a cambiare qui però ci siamo arrivati al cecchino muto 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 rpg adesso credo sia solo per le uccisioni fruttive allora però il pezzo di me da supremo è là sopra ok quindi che figo rpg qui vediamo la pistola grazie da so subito stutto stelt voglio 65 mi piace facciamo cagate adesso ok non so cosa stai guardando ma se vieni più qua sono più contento esatto esatto ole ah il cecchino c'è da cecchino ok quante ne sono rimaste di stronzi? più figo le rpg no vabbè useremo un altro momento adesso da questa da questa altezza posso cederli facilmente ma volevo farla tutta stelta ancora eh quindi ora scendo giù son cinque stronzi sono rimasti che palle parca troia grazie Sam ah io ah io Io mi ricordo che agli ancianciati se facevo incisioni furtive ti dava più munizioni, più cose Qui sono, adesso sono, ne mancano una ora, ne mancavo 5, stavo pulendo il terreno, perché ho spicciato il triangolo per fare l'attacco, non lo so neanche io Sì, l'ho vista le munizioni, ma mi sono spaventato, allora, andiamo qua, c'è un testa di chiozzo qua vicino, esatto, qua Dai Oh, che pizzi Cos'è questo? Ma perché non mi schiaccio le... Che palle Non è giusto Non mi dà delle cose Si poteva fare... Sembrano finiti Che palle Non è giusto Non avevo buttato qui decine di uomini, per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi Non avrei voluto finirla così Che tristezza Uh, munizioni Mi dispiace un sacco Mi siete tenuti forte, spero Siamo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini Un po' pretenzioso, eh Se le diamo una fetta maggiore di Ray No, lei non lavora così, è una di cui mermenari si prendono il pagamento anticipato, Ray fa in una posizione di vantaggio Ma è una gioia Eh, voglio proseguire, non voglio cercare i tesori Già, sembrano fare sul serio E sono terribilmente vicini al vulcano Savo la stessa cosa E se avessero già trovato il tesoro No, stanno battendo al tappeto la zona Se lo avessero trovato avrebbero interrotto le ricette Sì Sì, hai raggiunto Io volo qua Ehi C'è quel vecchio edificio Sì, effettivamente volevo dare un'altra occhiata qui C'è un'altra, una prima volta Ah Onesto Io non vorrei Che Questo casino Gli altri notano Casino Minca, se mi hai fatto trovare un altro tesoro di quelli nascosti Ti... ti bacio in fronte Ah, ecco, vado a usarla questa pistola Mi sono pentito in una velocità prima Tesoro Non ci credo Voglio anche annotazione Che figo Che figo Allora Allora, fai un attimo Voglio provarla Almeno voglio provarla prima di abbandonarla Ah, l'M... l'M... come si chiama? L'M92R Praticamente Quella stat... Eh, Sam Posso chiederti come trascorrevi il tempo in prigione? Non si fa ormai questa da montare Eh, sì C'era una guardia Che carino Eh, di storia Qualunque cosa riguardasse Eteri e gli altri delizio Sai, nel caso Giusto Le prima fatte Facevo flessioni Fumavo Cercavo di tenermi fuori dall'inizio e tra bande rivali Beh, avevo giochi di una volta Io rispettevo parecchio Nient'altro Importante Cazzo Cazzo Io so, poi io so, cazzo già non leggendo E penso, ho fatto qualche affare con Alcacate Cine di attento Wow Che cazzo La shoreline ha trovato qualcosa Rallentalo Certo Io volevo... Cacchio, volevo sapere cosa ha fatto Salli Salli, a che punto eri? Ah, sì, allora Ho fatto qualche affare con Alcacate Grazie No, sì Sì E sei ancora vivo Beh, all'epoca non era un pezzo profondo Stava ancora scalando le gerarchie trinite Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate dal Giappone Era un appassionato dell'epoca shogun Al casar fece da intermediario Che tipo era? Cordiale a parole ma deciso Come se fosse pronto a esplodere alla minima provocazione Beh, non è cambiato molto allora Presi i soldi e tagliai la corda Ok, buona sapersi Allora, tirate in tren Oddio, sentiamo Oddio Che cosa? Altre scagnozze della shoreline No, dai Ok, ragazzi Probabilmente È un'altra scena di quel tipo Chissà Allora Allora, visto che quella di prima l'ho fatta a stealth La faccio in modo Cattivo questa Ora che sono armato Vediamo Prima spostiamo tutto Ma che granate, ma di cosa temiamo? Sono tre, sei, ma dai Cosa potrebbe andare storto? Oh no Guardatevi le spalle Non sappiano- Non sanno dove sono, però C'è casino No, niente Ispezionate la zona Oh no, ma ce l'ho visto Mamma mia che figa questa arma Mamma mia che figa Siamo finiti Cioè ragazzi Vabbè che stelta tutto il suo fascino Però che palle Baroc Si chiama veramente Baroc Sì vabbè Un modo per dire Magnum vero? Sì interessante Verricello perché? Ma perché non Vado a cagare Cosa mi frega del verricello? Non ci sono tesori ovviamente in quest'area no? Però posso andare là sopra Ok ragazzi Nel prossimo episodio Probabilmente andremo verso quella parte con la macchina Quindi Grazie per avermi seguito Spero che questo video ti sia piaciuto Anche se è un po' strano come video Per la prima forza un episodio è un po' strano Non saprei come definirlo Metti pure il mi piace E ci vediamo in un prossimo video Wow Ora questa uscita Vertiginosa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.